Ogni volta che ci mettiamo davanti ai fornelli diventiamo inconsapevolmente dei piccoli chimici anche solo accendendoli attiviamo una reazione chimica. Un piatto di pasta o di riso, una maionese, una fettina di carne, un soufflé, il pane, la pizza, un caffè, una tisana e tanti altri alimenti sono preparati che si ottengono attraverso processi chimici che permettono di trasformare sostanze semplici in altre più complesse. Ed è la chimica che rende possibile che gli alimenti che abbiamo acquistato facendo la spesa diventino edibili, appetitosi, utili al nostro nutrimento e quindi fondamentali per la nostra stessa vita. Grazie a tutti.